Il posto più bello dove allenarsi a Pesaro è all'Athletic Club. Da anni punto di riferimento per chi vuole stare in forme e allenarsi con professionisti specializzati in un ambiente straordinario. Fornita a salapesi, corsi di pilates, total body, cardio smash e cardio fit, full body, suspension training con Mauro Manzini e allenamenti di gruppo o con personal. Inoltre campi da calcetto coperti, beach tennis, beach volley e paddle. Fino al 15 febbraio sconto del 15% per il rinnovo degli abbonamenti e sconto del 20% per i nuovi iscritti.